Matteo Maluccelli, sei un nuovo acquisto per questa stagione della Androni Sidermech, con quali priorità arrivi, qual è il tuo obiettivo stagionale, soprattutto da Forlivese, essere una squadra romagnola, qual è la tua sensazione? Beh sicuramente quest'anno, il 2017, l'anno che mi aspetta sarà un anno molto impegnativo perché comunque arrivo da un mondo continental, sì ho fatto corse con i professionisti però sicuramente ci sarà da lavorare per migliorarsi e niente sono contento di far parte di questo gruppo e sì da romagnolo correre in una squadra con sponsor Sidermech comunque è un orgoglio anche per me Ma la stagione del 2016 è andata bene, sono riuscito a vincere due tappe, due corse tra cui una tappa al Portogallo e il Memorial Pantani che è stata una bella soddisfazione per tutti essendo in casa del nostro sponsor Pino Buda e sicuramente è stata un'annata positiva per me e per tutta la squadra e cercheremo di riconfermarci nel 2017 Ecco raccontaci un attimo la preparazione che dovrete affrontare per la nuova stagione quindi come ti senti anche tu fisicamente? Ma adesso siamo proprio all'inizio abbiamo iniziato a conoscerci come gruppo che è molto importante essendoci stati molti innesti soprattutto di giovani quindi stiamo creando il gruppo adesso un po' di palestra e iniziamo a pedalare poi man mano si entrerà nel vivo della stagione aumenterà l'intensità e la distanza e gli allenamenti e gli allenamenti